eccoci qua eccoci qua eccoci qua stavo dicendo il microfono in una posizione curiosa rispetto nel momento in cui l'ho pensato è esploso succede 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 buonasera castelli fingiamo di non esserci visti come quando arrivano se arrivano i studi televisivi ciao 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 ma tanto tempo tanto tempo che non ci sentiamo tanto tempo no eh sì hai visto che alla fine il coprifuoco salta no salta però viene prolungato dopo dobbiamo eh nel senso che da mercoledì va alle 23 alle 23 sì 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 e quindi vabbè dopo capiamo che fare dopo capiamo che fare di noi della nostra vita ma non può tornare un'altra pandemia così torniamo come dici eh si dai vabbè eh allora si va bene è il animale affascinante il pangolino comunque affascinante sì è strano poi tipo perché un draghetto sì no è una roba un po' curiosa eh va bene eh che cosa facciamo questa sera non lo so guarda io sto facendo il pezzo per domani a parte che non lo stai facendo ma lo stai lo sto impaginando impaginando perché c'è abbiamo un nuovo scrittore domani vedrete un nuovo ma pensate non c'è neanche il trailer trailer ufficiale e stavamo commentando ecco fammi solo inserire il trailer di youtube sono a posto poi ci sono e sono presente cioè tipo facciamo questa roba 40 minuti in una volta no incorpora fatto 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 vabbè stavamo comunque domani c'è la recensione di The Underground Railroad ma in italiano tra l'altro ha un nome la ferrovia sotterranea ha la ferrovia sotterranea su Prime Video sì 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 e stavamo disquisendo del fatto che la protagonista una la protagonista sì sì è la protagonista che fa la schiava in America è sudafricana però in effetti è duzu non vedo si chiama però in effetti ma li prendevano dal sud America gli schiavi in America oppure erano dal sud Africa non lo so non ti so dire quale fosse l'origine non ho questa conoscenza però comunque se quindi vai però a dire a un sudafricano che non può interpretare un afroamericano vai a dirlo vediamo sei d'accordo no però secondo me il tema il tema di da dove li prendevano però ha un cioè può essere rilevante può essere rilevante ma allora risaliamo alla Pangea risaliamo al fatto che tutti siamo figli di Neandertal vabbè vabbè comunque ci chiede Erika Brun il nuovo scrittore è Cappe no Cappe è il nuovo socio fondatore nel senso il nuovo il nuovo scrittore il nuovo scrittore è un ragazzo che ci ha chiamato ci ha scritto che voleva scrivere con noi non aveva capito che noi gli avremmo dato dei soldi noi gli abbiamo detto e lui per non fare brutta figura ha detto vabbè scrivo lo stesso ma forse forse per due volte poi smette vedremo chi lo sa chi lo sa vediamo però bravo però noi siamo sempre molto onesti è tipo la prima cosa che diciamo quando qualcuno ci scrive ragazzi niente soldi motivo per cui dopo dieci anni siamo io in Castelli a scrivere tutto esatto se se ne prendiamo quasi niente noi perché un altro allora scrive il buon dai affrontiamo l'elefante nella stanza come dice il buon Alex l'elefante nella stanza niente live facciamo allora c'è questa idea c'è questa idea allora ragazzi il venerdì è saltato il venerdì salta perché il venerdì sera che si può stare fuori fino alle 23 e dal 7 giugno fino alle 24 c'è bel tempo la bella stagione non ha senso ma usciamo anche noi l'idea diteci cosa ne pensate a questo punto sarebbe che da qui fino a una pausa estiva che arriverà da un certo punto perché madonna si arriva madonna si arriva potremmo fare un lunedì giovedì così per distanziare potremmo fare un lunedì giovedì magari già da questa perché magari effettivamente già questo mercoledì c'è voglia di farsi un po' ah cazzo mi sei saltato un attimo no adesso è giusto non so perché mi ti sei frizzato un po' magari ero io ah no vabbè quindi così insomma l'idea di fare un lunedì giovedì se non da questa dalla prossima ma forse anche da questa chi se ne frega a questo punto si i giovedì sono fuori sei serio? no si sono serio sono serio scusa quindi sarei io da so mentre mercoledì ci saresti? non lo so si si può neanche passiamo a due passiamo a due poi la settimana prossima vogliamo introdurre un po' di ospiti un po' più di ospiti a casteggiare perché Castelli cosa ci siamo inventati cosa hanno partorito le nostre testoline in questa settimana allora per la verità l'hai partorita tu quindi dila tu partorisco lo partorita io ma poi come sempre tutto collettivo allora non so se vi ricordate se avete presente cos'è il questionario di Proust che io l'ho conosciuto mi ricordo da ragazzino delle medie che leggevo sette in bagno fondamentalmente quando sette del Corriere della Sera e si succede così lo trovavi lì e lo leggevi e chiudeva ogni numero il con questo questionario di Proust ovvero una serie di domande che io mi immagino Proust avesse scritto per ravvivare le serate nei salotti bene della sua epoca e che veniva fatto appunto a personaggi contemporanei invece degli amici di sette con delle domande del tipo come vorresti morire qual è il tuo più grande difetto cosa ami delle donne cosa invidi degli uomini cosa del genere e ben deciso di rifarlo chiamandolo il questionario no scusa scusa Castelli prima di dire prima di dire no non ce l'ho e non ce l'hai non c'è la musica non c'è la musica e chi se ne frega chi se ne frega ma non esiste è una copia lavoro una copia lavoro facciamo firmare aspetta la devo caricare aspetta la devo caricare comunque chi dice ma quindi Castelli ha una vita sociale un tempo no ormai lui è il re della notte è il re della notte poi ne parleremo no comunque effettivamente il re della notte comunque effettivamente no comunque sto sto applaudando una sigla però senza musica ma si l'ho applaudata la faccio partire siete pronti posso chiamarla posso chiamarla Castelli sigla a cosa serve l'audio ma lo sai che tra l'altro il nostro audio era attivo forse perché senza audio non l'hai conosciuto in quanto audio io ho detto evito di fare rumori devo trovare una musichetta oggi questa è una serata proprio di work in progress cioè tutti partecipano a work in progress va bene è bellissima palesemente erica brù ha perso ogni senso estetico nel corso degli ultimi mesi erica brù punta a conoscere i gatti questa è la grande verità comunque la mia prefe di tutte resta ancora serial cringe come sigla sì 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 no serial cringe è proprio delicata è proprio no vabbè il buon Alex per niente inquietante sta sigla prova a pensarci sotto una roba tipo Benny Hill e ti cambia tutto esatto cioè dipende tutto difende dalla musica che ci trovo a mettere sotto quindi vabbè vabbè comunque cos'è il questionario di Locke è una serie di domande simili sulla falsariga di quello di Bruce dedicate tutte al mondo seriale ovviamente ok è l'idea che noi le facciamo agli ospiti in realtà le faremo agli ospiti che oggi non ci sono quindi in realtà oggi non ci sono il pubblico voi ci aiutate a capire quali sono le domande che dobbiamo usare così la prossima volta che viene così quando il Villa ci porta qualche VIP di quelli che ha conosciuto c'è tipo Robbie Williams no che Villa ha conosciuto durante Catteran ce lo porta e Robbie Williams ci risponde alle domande sì sì tra l'altro Robbie Williams che scriverà il pezzi con me e Lorenzo Peroni settimana prossima per Serial Minds ricordiamocelo sì 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 in inglese però è una rubrica per dare un po' di avrà una rubrica quindi allora diciamo che le prime domandine che abbiamo buttato giù sono quelle che avevamo già fatto agli ospiti che abbiamo avuto quindi qual è la serie della vita ma quindi a questo giro ce la facciamo io e te per capire come funziona va bene qual è la serie della tua vita Castelli? sempre Friends sempre Friends non mi ricordavo non mi ricordavo non mi ricordavo potrei rispondere con Friends e cose di Friends a quasi tutte le domande che abbiamo scritto però la serie della vita la serie della vita resta Friends la serie della vita resta Friends per una valanga di motivi affettivi di abitudini adolescenziali leggevo le trame sulla guida tv ci sono tanti ricordi bene invece il personaggio di cui ti sei innamorato e vabbè ma tu non mi dici la tua serie della vita sì è West Wing West Wing hai ragione scusa ci sta ci sta allora adesso tocca a te perché alterniamo un attimo quindi tu va bene tu mi dici tu mi dici dell'amore allora io credo che un innamoramento che ho avuto ai tempi quando ero proprio ragazzino adesso un personaggio minorissimo ovviamente quella che moriva in IAR la dottoranda dottoressa biondina che moriva in IAR ma Lucy 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 beh non eri troppo giovane non è così vecchio era liceo beh liceo sì la puntata morte di Lucy è una delle cose più tragiche e devastanti mai viste perché la coltellavano sì ma sembrava sopravvivere non la trovavano per tantissimo tempo non la trovavano per tantissimo tempo la trovavano sotto un tavolo sotto una barella e poi scoprivano che era Giorgio Malley ma non è fiero ti ho visto titubare però ti ho visto titubare no perché perché ho letto perché ho letto una domanda perché ho letto una domanda di Robit che dice però se questa cosa soppianterà seria stupidera non ci sto no è per gli ospiti questa cosa la stiamo facendo adesso ma poi non è che possiamo farci ogni volta quindi la facciamo per gli ospiti per gli ospiti e solo che mentre io leggevo questa cosa tu hai detto questa futtanata e io ho detto cosa ho sentito è tutto giusto è tutto giusto ma invece di chi ti sei innamorato tu Castelli voi rispondete anche voi amici ma li sai ma li sai a parte che a parte che da bambino vero di Nana Supergirl che era un cartone Nana Supergirl sì avevo tipo cinque anni ma veramente cinque anni innamorato di Nana Supergirl che tra l'altro non era una donna vera perché era un androide e quindi già all'epoca c'era tutto così e in crescendo ma ne abbiamo già parlato è sempre stato inclusivo va detto ma ne abbiamo già parlato perché ti ricordo abbiamo già fatto e io devo citare assolutamente Emily Van Kamp di Everwood naturalmente e poi c'era ti ricordo c'era Jessica Alba di Flipper Jessica Alba di Flipper neanche mi ricordo il personaggio ma Jessica Alba è vero abbiamo già parlato di questo abbiamo già parlato sì sì abbiamo fatto una domanda simile Cicciobaciccia dice io di Creamy io di Creamy Creamy e tanta roba ma a me piaceva più in versione You però a me sono sempre piaciute quelle un po' perché Creamy era troppo citata troppo troppo costruita anche no invece You era proprio mi piaceva perché era una bambina e invece abbiamo un Pippo Gaudo che parla di Lamu guarda dobbiamo fare una puntata sui cartoni guarda ho detto una cosa ho detto una cosa ho detto una supergirl e la gente arriva con i cartoni come se fosse un no comunque l'amore tira sai cosa pensavo oggi così del tutto Haggir vuol fare il threesome capito con le gemelle orse buone tipo dopo quest'anno e mezzo di pandemie in cui tutti sono stati fermi ed è esploso comunque tutto questo discorso politicamente corretto cansa il calcio e tutto i Gemboy esattamente come potranno tornare a fare i concerti ma i Gemboy però scusami i Gemboy ormai fanno i concerti con Cristina Vavena e sono sdoganati non fanno più le robe di parodia ormai credo che la gran parte dei soldi li facciano cioè per vivere li facciano con quelli tra l'altro io nella mia vita sono stato tipo a sette concerti e due volte a quella di Gemboy con Cristina Vavena mi ci hanno anche portato francamente cioè la prima volta sono andato con grande entusiasmo all'Alcatraz all'Alcatraz si era all'Alcatraz facevano sempre lì a Milano e poi e poi uno invece un po' trascinato perché era già il secondo e ha detto vabbè andiamo a Live Atrezzo è direttore fuori provincia ma a Live Atrezzo sono andato più di una volta e una volta ho visto anche una cover band di Ligabue le peggio cose proprio le peggio cose poi per fortuna è arrivata una pandemia poi per fortuna è arrivata una pandemia e non è più fatto danni non è più fatto danni allora ma invece Castelli tu qual è la serie in cui avresti voluto vivere? allora c'è un retroscena da dire che noi abbiamo fatto queste domande e sarebbe stato molto intelligente la parte nostra sapendo che facciamo questa puntata avere già le risposte pronte non ne sappiamo una di queste domande e vai giusto così e quando lo faremo con gli ospiti naturalmente le daremo molto prima le daremo molto prima comunque una serie vediamo una serie beh ma probabilmente qualcosa di sopranaturale però eh ah veramente? sì nel senso che avrei voluto io cioè avrei sempre voluto avere tipo dei poteri delle cose quindi Troublad volevi essere in Troublad tu oddio Troublad volevi essere Suki però io sono non essere Suki io in realtà nelle serie quelle con i vampiri Vampire Diaries il vampirismo è una cosa splendida cioè non ha niente delle brutte cose quindi in realtà perché no e farmi vampirizzare giusto Vampire Diaries qual è la tua risposta? no Vampire Diaries c'è una risposta a una domanda dopo a questo punto mi dici qual è mi dici qual è è una serie brutta che ho sempre guardato che poi non era brutta dai no ma infatti è brutta però diciamo no tra le serie che mi hanno appassionato se così possiamo dire è sicuramente una di quelle che considero comunque più vabbè ma ok va bene però me l'ho appassionato Vampire Diaries vabbè sai che invece io avrei voluto vivere dentro community che bello bella risposta beh sì comunque quante comedi in quante comedi sarebbe bello vivere secondo me è lì la cosa ambienti così belli rilassati fa un cazzo così sì 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 ma anche cioè ma quando eravamo piccoli non volevi vivere tipo nei Robinson piuttosto che quelle robe lì quelle famiglie proprio nei Robinson tu lascia stare stacca stacca l'opera da quello che c'era dentro certo non volevo recitare nei Robinson dove pare che ci siano dei traumi che vanno avanti da 25 anni e va bene dico una cosa a Monica e a tutti questa domanda è bella se avete voglia di suggerire di questa cosa specificate quale per cortesia e soprattutto se vengono anche a voi delle domande bravo Stefano perché lavorare con Liz Lemon dentro 40 Rock effettivamente è una bellissima risposta eh sì poi dipende che personaggio fai però secondo me anche perché non tutti vivevano una vita straordinaria secondo me Erika dice genitori blue jeans anche tutte queste sit con familiari che poi voglio dire salutiamo mamma e papà io non ho avuto nessun problema familiare infantile tutto benissimo per carità però Tiziana dice Buffy una cosa che io però mi viene da dire è ma voi siete proprio sicuri di voler vivere in questi posti dove si rischia di morire ogni giorno e dove comunque cioè dove comunque la tragedia è sempre dietro l'angolo pensateci bene sono quelle che dici in che epoca vorresti vivere il medioevo oh ma il medioevo cagavano nei posti dove non c'era l'acqua corrente cioè siete pazziti non vado in nessun modo vado più indietro il 2015 io ma cioè io voglio una DSL e non tazzardare a togliere la DSL cioè ma le basi proprio vabbè sai che Paola V mi fa cambiare non community ma Parks and Recreation Parks and Recreation che sia il posto più bello in assoluto ma ponidici cioè quella città lì a vivere nella buca dove c'era dove stava esatto dietro casa di Chris Pratt esatto sì 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 va bene vivere sulla bocca dell'inferno quella è la risposta di Scattegat che è in Royal Pains perché è una risposta è perché Royal Pains sono tutti ricchi tutti con le palme tutti eh capito che ti piace anche Pippo Gaudo The Deuce anche lì dipende cosa si fa in The Deuce tanti posti può andare bene 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 ma anche male 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 c'era anche vabbè sì ok va bene io ho risposto tu hai risposto sì sì tocca a te tocca a te no tocca a me no non lo so sei sempre tu che fai le domande però alla fine no no tocca a te adesso farla tocca a me farti la domanda allora ti dico stiamo leggendo lo stesso foglio quindi non cambia nulla sì però siccome tu da subito le hai fatte diverse allora allora diciamo il personaggio che avresti voluto avere come padre o madre ah eh Mr Rider anche qui dipende cosa fai però va bene allora si torna sempre lì si torna sempre alle comedi fondamentalmente perché non è che puoi dire Welcome Texas Ranger no ti dico come nonna Jessica Fletcher come nonna Jessica Fletcher nonostante il rischio che tutta la famiglia venisse esternata sì sì no guarda guarda che c'era il cerchio magico nessuno c'era il cerchio magico mai mai in tutti quegli anni eh padre Ron Swanson è sempre lì sempre lì siamo cioè no vabbè però si va per Ron Swanson come padre beh diciamo che a un certo punto però sai costruirti anche i tuoi mobili sai fare comunque è padre all'antica tipo che padre è un padre un po' da primi novecento dai ecco mgric non so come si dice un nome nuovo peraltro un nome nuovo scrive Sandy Cohen in the O.C Sandy Cohen in the O.C è uno dei genitori più amati di sempre nella storia è così e comunque però è un padre è un padre mentre invece appunto non necessariamente a questa domanda poi si deve rispondere tu chi vuoi come e anche a me viene da pensare a me al netto della brutta morte della morte inutile verrebbe la del padre di Dawson padre di Dawson ma sai anche perché perché era Flash anche era Flash sì nel senso era stato anche Flash metti che un attimo si distrae questa cosa questa cosa mi è sempre ciuta però però devo dire anche lui era padre ho sempre avuto anche una certa cioè mi piaceva anche Mitch Buchanan di Baywatch cioè David Hasselhoff veramente sì perché era un padre figo ma faceva il bagnino però tutti lo guardavano come se fosse uno che bisognava stargli dietro quello che diceva perché perché ne sapeva a pacchi però non era non era cringe cioè oggi sì ma all'epoca no era una roba e comunque il figlio era venuto su male si chiamava Obi credo Obi Obi bravo sì 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 Obi non era comunque non era venuto su Benissimo ah ecco Robin parla di Soul di Homeland come zio nonno e beh sì diciamo che se vai nei casini tutto sommato sì 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 non me lo vedo a Natale a essere gioviale ecco quello onestamente non me lo vedo però invece Castelli andiamo sulle domande scomode vai la serie che ti dispiace avere mollato perché ce ne sarà qualcuna che poi ti è spiaciuto aver mollato ah sì ce l'ho assolutamente The Good Wife il mondo The Good Wife il mondo The Good Wife ormai è irrecuperabile The Good Fight eccetera cioè quando erano a metà e io vedevo la gente che si sperticava di lodi e dicevo porca Eva l'ho proprio l'ho sbagliata cioè l'ho proprio valutata male è una di quelle che ormai non ha più senso recuperare troppa roba da vedere cioè stiamo parlando credo siano 8 stagioni da 25 dove vai come vai come fra i 40 non ce la posso fare ci sta ci sta io ho Shameless che è veramente il mio cruccio perché non è che erano di quelle che avevo visto tre puntate in croce però io non ti considero cioè calma non consideravo che tu avessi mollato Shameless minchia a quarta stagione mi sono fermato cioè ormai non posso più dire sto aspettando per ricominciare dovrò recuperarla in qualche modo però l'ho mollata ormai ho pensato fosse andato avanti eh no eh no 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 e quello mi è spiaciuto molto perché mi piaceva proprio tanto 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 mi piace mi piace Varax che dice io non le mollo per non dispiacermi ma nel senso che non esiste una serie che inizi e che non finisci cioè una vita sul filo del rasoio proprio però cioè se guardi il primo e fa schifo dopo sono anni hai guardato anche Rebel per caso sono anni di marciume possiamo fare questo momento dietro le quinte su Rebel allora su Rebel momento dietro le quinte su Rebel abbiamo pubblicato la recensione perché avevamo visto la puntata diciamo scaricata fondamentalmente come a volte accade ci arriva poi la mail di Disney Plus che dice la serie sarà disponibile dal 28 maggio per favore è embargata qui avete gli screener è embargata la recensione fino al 25 maggio per cui diciamo vabbè ok togliamo la recensione la rimetteremo su il 25 maggio quando sono tutti d'accordo tutti contenti hanno cancellato Rebel prima che scadesse l'embargo questa è una cosa bellissima ora tornerà perché tornerà però rimarrà un po' lì rimarrà un po' lì ah grande Monica shameless ho cominciato a vedere quella inglese stasera ma non mi piaceva sono passato a Daredevil Daredevil è una palla ragazzi non credeteci ma cosa stai dicendo non dire stupidate non dire stupidate no 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 Daredevil è bellissima è bellissima però shameless inglese non ho visto nulla io devo dire no ma comunque il percorso mentale che ha portato Monica a provare shameless inglese per poi passare a Daredevil comunque what cioè non lo so sarà un pensiero da programmatore televisivo che di solito cerco di mettere insieme le cose che si assomigliano ma questa cosa mi spiazza un filino devo ammettere va bene no diceva Agil dice la recensione di Rebel dove la troviamo e a questo punto fra qualche giorno la ributtiamo su miroge ha preso anche degli insulti peraltro perché era stata una stroncatura epocale devo dire sì vabbè sì prendi gli insulti e poi la cancellano dopo due giorni perché non interessa niente a nessuno cioè poi diciamoci la verità noi siamo anche quelli che dicono siccome poi non vogliamo essere fregati da questa cosa che non è che le cancellazioni i voti bassi devono essere indicazioni per forza di allo stesso tempo se una serie punta ad essere una serie generalista e non se la caga nessuno di solito voglio dire qualcosa non ha funzionato ah Agil dice quello che ho mollato e mi dispiace è Mr. Robot anche io l'ho mollata a metà della seconda stagione ma non mi sono pentito perché era una palla devastante sì ma la seconda stagione era una palla ma poi la terza un pochino migliore più che altro essendo solo tre tutto sommato si poteva anche arrivare sì però secondo me quella era una serie da monostagione devo dirti si esauriva e lì secondo me è la cosa forte forse alcune cioè le cose migliori le ha fatte vedere lì sì no no questo è in dubbio questo è in dubbio se fosse stata una miniserie dichiarata nessuno avrebbe avuto la dire eh dai saremmo qua a dire c'è una botta di commenti uno dietro l'altro eh qua succede sì succede The Shield The Shield The Shield l'ho vista tutta io secoli fa quando c'era ancora Megavideo fa te no Aliena dice che ha mollato The Good Place e Stranger Things brutto soprattutto The Good Place non è ancora finita soprattutto The Good Place perché la quarta stagione The Good Place secondo me è un mezzo copo lavoro rispetto a una terza che era un po' faticosa ma la quarta è proprio bella proprio bella rispondi a questa domanda a questa cosa che dice Kattegat ma tranquillo non devi pentirti di averla mollata anche lì va benissimo la prima stagione pensavo gli dicessi che non esisteva la seconda stagione va bene andiamo avanti andiamo avanti andiamo siamo no sì insomma il mondo è la più adesso non mi ricordo più chi deve dire tu comunque vai tu la più grande delusione seriale che può essere intesa in due modi serie bella che si è rovinata o grandi aspettative e poi delusione da subito diciamo allora dunque la serie che si è distrutta e si è rovinata è Westworld per me prima stagione bellissima seconda che in qualche modo si è salvata ma perché avevo veramente una voglia comunque di vederla la terza stagione mi ha fatto un po' schifo lì proprio delusione totale mentre invece grandi aspettative e grossa delusione non mi ricordo più il titolo era quella sul sottomarino sul tizio che rubava il capitano della marina americana che di fatto prendeva sottomarino insieme ai suoi soci sottomarino nucleare quindi fondava una specie di nazione basata sul fatto che loro avevano le armi nucleari quindi potevano minacciare il mondo che era scritta e creata dallo stesso autore di The Shield quindi ero gasatissima avevo finito di vedere da poco adesso lo recupero c'era Anthony Brauger a farla protagonista se non mi sbaglio boh no non era non era della ship perché no no non si chiama Anthony come si chiama Brauger Andre Brauger Andre Brauger te lo dico subito che non ha fatto tante serie lui lo recupero in fretta ci ha fatto i 700 Last Resort ah si mi ricordo vagamente ma forse ho visto veramente il pilot 2012 mi piaceva anche la trama quindi vuoi essere che era fatta da cani ma da cani proprio malissimo malissimo Last Resort Reynos bravo sai che io allora è stata citata volevo dire ah giusto anche Stefanoz lo dice non dice un'altra bella dove è Stefanoz terzo ultimo terzo ultimo grandi aspettative The Bastard Execution ah si bravo bravissimo no hai vinto te guarda sulle basse sulle aspettative deluse The Bastard Execution prima serie di Corsatter dopo Sons of Anarchy venivamo da una gioia pazzesca per Sons of Anarchy e The Bastard Execution faceva schifo avevo visto tanto la prima puntata era una cosa una roba ignobile veramente ignobile da tutti i punti di vista che brutta serie tu l'hai vista brutta vero? no 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 troppo troppo terrificante avrei potuto citare anche Terra Nova Terra Nova che era quella di Spielberg ah si ma non perché alla fine fosse così brutta ma perché avevo delle speranze su quella serie lì che invece no e invece ha citato qualcuno scusate mi ricordo più ha citato The Terror che è spiaciuto al fatto che la seconda sia stata così meno della prima secondo me il problema della seconda è che era un chi se ne frega grosso come una casa cioè proprio una cosa incredibile neanche brutta probabilmente ma chi se ne frega dato dal fatto cioè non è che la prima raccontasse chissà che però era tenuta la seconda era una roba che non c'era la tensione non c'era sì poi forse era più normale i fantasmi in Giappone cioè i giapponesi in due stanno citando Flash Forward che comunque ci sta alla grande come sia serie rovinata sia aspettative deluse potrebbe unirle entrambe io non avevo così altra aspettativa su Flash Forward cioè me la sentivo che dopo l'hosto subito così eh beh ci sta come ce l'avevo già il concetto invece no scusa Barbara N parla di serie belle che si è rovinata Grey's Anatomy e ci dà il gancio visto che lunedì per capire cosa è successo a Grey's Anatomy Castelli non è andato in onda stima scorsa ah facile così eh ma no no tanto nessuno va a controllare è saltato Grey's Anatomy nessuno va a controllare allora secondo me non si è rovinata Grey's Anatomy più di tanto è che il mondo è andato avanti e lei no cioè nel senso lei ha settato mamma mia ma sei in vena stasera eh lei ha cambiato delle cose del mondo seriale ma poi è rimasta lì poi ci sono anche serie cioè stagioni inferiori siamo d'accordo però resta semplicemente troppo uguale a se stessa dopo 17 anni secondo me oh la seconda stagione di True Detective buona Alex ma ne voglia parlare dalla seconda stagione di True Detective mamma mia che chiodo che chiodo ragazzi sì 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 la terza alla fine si salvava eh secondo me si salvicchiava se non facevi troppo paragone ma perché era comprensibile quantomeno cioè la seconda era un io mi ricordo sai che era uscito un articolo di non mi ricordo chi che faceva il riassunto cioè faceva lo spiegone della seconda stagione dichiarando fin dall'inizio che comunque non si sarebbe capito niente alla fine dello spiegone perché era troppo cioè madonna io True Detective avrei voglia di rivedermi la prima per capire se era stata un'infatuazione totale collettiva di quel momento o se a distanza di ormai quasi dieci anni no dieci no sei sette dieci no però tiene ancora non lo so però ovviamente non lo farò mai non lo farai perché ti vi recupero non lo farò mai esatto la prossima ma invece questa lì la serie che piace a tutti e che ti ha fatto schifo ma io voglio dire Agil ma perché la prima stagione di Love, Death, Robot ti è piaciuta così tanto va dopo facciamo polemica su questa cosa e come dici aspetta lo so che ti ho chiesto non mi ricordo già più ma sei serio no la serie che piace a tutti è che ti ha fatto schifo oh beh beh ma io qui ho il massimo assolutamente la serie che è piaciuta The Wave eh The Wawas ma va quella mi sarà mica piaciuta a tutti guarda è piaciuta a te a moglie del guadagnino e basta non è che è piaciuta no la serie che è piaciuta a tutti e che io purtroppo devo dirvi ragazzi no è Twin Peaks ah ok va bene è seria questa è bella questa è bella come io ho visto tutto Twin Peaks tutto la prima cioè la prima diciamo serie la seconda e per quanto io ne riconosca il valore e il peso nella storia delle serie tv per me Twin Peaks e parliamo dell'originale è una noia senza fine recitato da cani mamma che brutto non ce la posso fare stiamo un po' rigerando secondo me no ma è del 90 è del 90 ecco Eva a robe che voglio dire non lo so sembra di 10 anni meno per come recitano come recitazione poi altre cose no altre cose molto più moderna e molto più anche all'avanguardia se vuoi solo una cosa mi piace di Twin Peaks che è la sigla la sigla è tantissima roba tra l'altro qua stanno venendo fuori un po' di scheletri dall'armadio vabbè a parte Barbara Henn che gioca facile con la casa di carta Sherlock Alcatraz vabbè dai ma queste sono le serie non piaciute a quelli credo di sì Sons of Anarchy Big Band Theory Game of Thrones The Crown di nuovo Big Band Theory Big Band Theory Peaky Blinders eh cazzo Peaky Blinders sa che non ce l'ho fatta io non ho finito la prima stagione ero veramente lenta non mi ha preso lenta ero bambina proprio al 1000% sì sì non è rapidissima The Big Band Theory mi piacerebbe sapere se l'hanno visto in italiano però in italiano è guardabile ragazzi no non è vero va in onda su 20 in access quindi va bene è bello in italiano anche Big Band Theory regge secondo te vista 15 anni di distanza? eh dovrei rivedere The Big Band Theory aveva avuto un calo terza quarta stagione quando l'ho mollata io penso sì sì no no aveva avuto un calo poi si era ripresa secondo me poi si era ripresa però le prime due stagioni erano spumeggianti e poi si è un po' seduta sui suoi giochini va bene cioè te la vedevi se ti era piaciuto all'inizio Renius che dice Breaking Bad io lo posso anche capire non sono d'accordo con lui Breaking Bad non è una serie per tutti cioè le persone stupide no no scusa scusa no 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 Breaking Bad non è certamente cioè anche solo per quanto è lenta è assolutamente possibile che non piaccia ci mancherebbe diciamo che se ci entri però ti ho mandato un whatsapp mentre te lo mando mentre te lo leggi sì 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 allora la sigla più bella di sempre quella che non salteresti mai allora la sigla più bella di sempre allora bisogna andare al passato forse non ho una risposta specifica dobbiamo andare al passato anche perché abbiamo un podcast che si chiama Salta Intro quindi non siamo esattamente no bisogna andare al passato perché è passato il tempo delle sigle banalmente cioè adesso quante sigle si fanno veramente tante le sigle che si fanno adesso le sigle che si fanno adesso sono tutte sono tutte sigle Game of Thrones tutte serie di oggetti che compenetrano che fanno cose io vado sicuramente nel passato e ti dico robe tipo genitori in blue jeans base high school la tata quanto mi piaceva sia e Will il principe di Bel Air che era anche in italiano quindi te la potevi imparare e te la cantavi oltre ovviamente a Friends ma vabbè facciamo la storia a sé la storia a sé la storia a sé però però quelle lì di recenti invece ho sempre schifato come si stanno sparando tutte queste serie queste sigle la sigla di Game of Thrones è assolutamente molto bella però la sigla di Game of Thrones è sempre durata tipo un minuto e quaranta ragazzi cioè era una roba che dopo un po' basta sì 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 Dexter molto bella molto molto bella Dexter Dexter era una grande sigla anche la sigla di Buffy Kimmy Schmidt che c'era il rap che bella sì 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 bellissima Beverly's sì sì tutte belle poi credo forse da Lost hanno cominciato forse da Lost ha cominciato a non esserci più le sigle cioè esserci una cosuccia c'ho moglie dall'altra stanza che fa quella sofisticata che dice Lost è la sigla più bella perché non c'è praticamente perché dice via fuori dalle balle dice che lei faceva paura semplicemente l'ha scritta Lost faceva paura però vabbè X-Files è certamente una bella scelta cioè diciamo che è iconica anche quella però se io avessi potuto saltarla perché in realtà X-Files andava in onda quando ancora non sia che si poteva saltare così bene però l'avrei saltata onestamente ah Fringe sai che non me la ricordo la sigla di Fringe sì beh anche quella era come era? e anche quella era tutta non mi ricordo non mi ricordo il tema no non mi ricordo il motivo sì sì no quello neanche io però sì insomma era un po' tutta così il refrain oh anche anche True Blood anche True Blood molto bella sì True Blood ma proprio la canzone era bella e anche San Zovannar che è cioè sì San Zovannar che era bella la canzone True Blood era sì 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 True Blood era bello tutto True Blood era bello tutto azzardo con le macchine che volavano così allora ne facciamo una difficile Castelli questo è veramente difficile comunque mi piace perché li stiamo mandando fuori fuori di testa con cento domande tutte sì 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 è così è così è così è così comunque saranno le domande che manderemo ai nostri simpatici ospiti quindi ne parleremo anche tante altre volte sì sì intanto abbiamo Danilo Chibiti che ci dice adoro la sigla di Black Sails la sigla di Black Sails mi ricordo solo che c'era il tipo che faceva Shameless giusto? come protagonista no come c'era Shameless sì 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 ah io tiro fuori la chicca qua era il tizio che stava io mi ricordo che c'era una una delle protagoniste che veniva da The Secret Circle che era una serie sulle streghe aveva fatto solo una stagione e lei faceva comunque una ragazzina tutta posata in The Secret Circle e poi quando è andata a fare The Black Sails gli si vedeva hai capito? cosa? e gli si vedeva faceva vedere tutto queste cose ti mandano ai pazzi vero? questo è il mio ragazzino che ormonato che avrebbe voluto vedere nude tutte le protagoniste delle serie tv e vabbè niente non trovo quello che dico io probabilmente sto confondendo tra 18 serie differenti sì sì lasciamo stare lasciamo stare ah no lì dice dice Stefano dice faceva Jody e adesso chi è Jody però scusate sì allora Jody era quello super dotato diciamo così che stava con la tizia che nelle prime stagioni ogni tanto diventava cioè quella che Frank Gallagher sfruttava come finta moglie oddio non voglio fare cioè se ti dico una scena ti ricordi capisci subito chi è lei però non voglio spoilerare è pesantissima Sheila Sheila di Shameless eh ma ho capito Sheila di Shameless ma lui non mi ricordo lui però ah Jody Jody ce l'ho ce l'ho va bene non era il protagonista però eh però dai sì personaggi importante personaggi importante no ma io stavo pensando a quelli della oh no stavo pensando un'altra cosa stavo pensando un'altra cosa però però sì sì è vero c'era anche lui c'era anche lui Shameless va recuperata io sono con Lip all'università e sono mille stagioni è lunga è lunghissima sì è lunga ma sai cosa che poi gli episodi sono lunghi cioè nessuno che sia pesante perché Shameless è tutto tranne che pesante però tempo di vita ne va via parecchio ne va via parecchio detto che poi magari è tanto quanto fare il recupero di The Office che il Villa ha appena fatto perché le 12 è diverso perché le 12 stagioni di Shameless cioè le 12 puntate a stagione di Shameless valgono come le 24 di The Office sì 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 però te le metti degli interstizi è diverso è una roba diversa cioè prima di andare a letto una o due puntate di The Office le piazzavi lì l'idea di metterti 50 minuti a vedere Shameless è complicato è più complicato sì è vero è più complicato molto vero molto vero non mi ricordo chi deve fare cosa io ti voglio chiedere la serie che ho il titolo più bello che secondo me potrebbe essere te la butto lì proprio Better Call Saul perché è un bel titolo proprio c'è una maglietta non sai che è un altro tipo mi sono gli stessi alzando per pensare ma no è reagito no sai che non lo so questa è una cosa che mi mette in difficoltà è una domanda dopo che cazzo diciamocelo pure forse questa possiamo toglierla dal nostro dal nostro coso How to get away with murder è bello sì però perché è una frase che lo usiamo spesso posso contestare che How to get away with murder sia un bel titolo di una serie tv cioè lo dice Capo per questo non hai ragione non lo so a me pare proprio brutto onestamente cioè mi sembra lazy non so come dire lazy lazy sentilo lazy lazy sì no questa la togliamo Castelli è una domanda veramente del cazzo diciamoci va bene poi bisogna rifare la numerazione delle domande quindi allora il tuo buco la serie che va vista ma che non hai vista aspetta nel momento in cui abbiamo deciso nel momento in cui abbiamo deciso di toglierlo io di Monica mi fido faccio un bellissimo comanzetta nella zetta via fatta io di Monica mi fido anche il buon Alex che ci dice carabinieri bello preciso comunque sai che Agil dice che fine ha fatto Sara sai che io ho capito perché hanno cambiato il titolo in italiano perché sennò chi ha ucciso Sara gli suonava troppo come chi ha ucciso Lara Palmer ed erano consapevoli di avere in mano una merda colossale e non volevano metterla a confronto vabbè però non è che era un sottotitolo è l'unica spiegazione possibile l'unica sì però tieni conto quante volte in Italia si sono presi i titoli facendo finta che fossero film più belli sì 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 quindi nel senso secondo me è quella secondo me è quella invece facciamo tutte e due coming out con il nostro buco più grosso della serie più importante che non abbiamo visto che è la stessa Castelli è la stessa no non è la stessa perché il mio buco più grosso è una delle tue serie preferite The Wire sì eh io avrei fatto coming out insieme con The Sopranos ma perché io invece sto guardando The Sopranos ma che merda non dice un cazzo questo quindi no quindi no non più hai capito my darling hai capito sì no ma perché in realtà sono ancora ma perché ho tipo finito la prima stagione però non è più adesso Agile inizia da un po' di gente sì adesso Agile deve fare va bene va bene no io The Wire la verità è che non mi piace cioè la verità è che ho visto due puntate eh no devi entrarci proprio devi entrarci proprio dentro ma secondo me poi a oggi cioè dovevi entrarci dentro nel 2002 nel 2020 in Tuno è un po' ci sta quello ci sta proprio una roba a sé un coso in più un coso in più sì 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 un coso in più sì sì la citazione che ti è rimasta impressa che ti direi anche quella che ti viene più sì no non quella che usi perché quella che usi probabilmente è una citazione di Boris perché sono le uniche citazioni seriali che usiamo nella vita però nel senso la frase quello che ti è rimasto più impresso a me come prima cosa viene Not Penny's Boat che è curioso perché non è nemmeno una cosa pronunciata eh lo so addirittura è una citazione scritta ti direi di recente ovviamente il That's What She Said di The Office di The Office che non si può più usare però perché siamo in un mondo post che non si può più usare no io devo dirti ce ne sarebbe una che non è una citazione famosa ma è una citazione che riguarda in realtà potenzialmente anche un'altra domanda che ci siamo segnati ma che mi descrive ed è una cosa detta da Chandler Bing che a un certo punto in una puntata si presenta a una persona gli stringe la mano e gli dice piacere sono Chandler Bing io dico stupidate quando sono a disagio dice I make jokes when I'm uncomfortable e io mi ricordo proprio che ho detto sì 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 confermo questa cosa ed è una cosa che mi è rimasta molto impressa intanto Aliena si dimostra come sempre una che ne sa più degli altri perché have you tried to turn it off and on again ovvero the IT crowd serie strada sottovalutata che ormai è finita nel dimenticatorio diciamolo però era proprio divertente resiste in qualche meme resiste in qualche meme resiste in qualche meme però è proprio divertente sì beh Bazinga no ma anche vabbè Bazinga sì le imprecazioni di Jack Bauer Jack Bauer aveva anche un'altra cosa che diceva sempre peste ah no peste no quando lui era lui diceva sempre ricevuto no in italiano quando lo piaceva che era che in inglese era copy that credo che sia la frase che ha usato di più in tutta e probabilmente se fossi stato un ragazzino all'epoca sai ragazzini con i walkie talkie sì avrei usato l'avrei usata tantissima probabilmente ah Taru dice bellissimo e io io non ho in Giorgio vabbè tanta roba Taru dice title of your sex tape da Brooklyn 99 che è a questo punto l'adattamento di that's what she said è lo stesso giochino sì anche se non cioè non credo abbia usato così tanto no 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 va che torna tra lui e sì ma non come ma non come The Office certo 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 sì 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 bello anche il legend wait for it Derry ricordiamo che questo e l'abbiamo messo anche nel libro che noi abbiamo pubblicato ma quale libro quale libro quale libro dovevo andarlo a prendere ma ho la tuta non posso andarlo a prendere comunque l'avevamo citata anche in un capitolo del libro perché quella frase lì è spezzata su due stagioni che io ritengo tuttora uno dei migliori cliffhanger perlomeno linguistici della storia con Barney Stinson che dice legend wait for it poi non dice niente finisce la stagione e la stagione dopo inizia con lui che dice Derry cioè quella è tanta roba quella cosa era bello era bello come ti ormai erano i momenti di gloria fino a sei stagioni straordinarie e poi intanto Paola V mi ha riacceso dove sta la biblioteca di community che avevo totalmente rimosso bello sai che io sono un po' in crisi perché avendo finito The Office ho bisogno di qualcosa del genere cosa mi guardo mi riguarda ma tu lo sai che community aveva 25 episodi a stagione eh sì 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 ma è una roba di cui mi sono reso conto l'altro giorno e no cioè io me la immaginavo una di quelle da 12 invece era 25 e secondo me fa rivista perché non me li ricordo sai che anche secondo me anche secondo me però nel senso alla fine appunto mentre facciamo la scheda per il libro mi sono reso conto che è una di quelle serie che ti permette di fare il rewatch seguendo quegli articoli del tipo i 30 i 10 episodi i 20 i 30 episodi che devi assolutamente vedere però allo stesso tempo se noi leggiamo i 30 i 10 episodi da vedere i community io me li ricordo quei 10 episodi eh sì quindi in realtà dovrai vedere gli altri per capire se c'era dentro qualcosa di veramente importante qualcosa di veramente importante va bene facciamo l'ultima domanda nelle arti dice Schitt's Creek da recuperare episodi brevi divertenti è vera questa cosa qui è un bel recuperone da fare in quell'ottica lì che dicevi dai facciamo l'ultima domanda e poi andiamo a fare le nanne e la chiuderei con la serie o l'episodio che hai visto più volte perché tu non sei un riguardatore io non sono un riguardatore non sono un riguardatore quindi se devo dire quello che ho visto più volte probabilmente da un punto di vista numerico dovrei guardare sicuramente una serie del passato di quelle che facevano tante repliche e probabilmente no però in maniera conscia dai no finirei a parlare di Tequila e Bonetti ma però mi sa che devo comunque citare Friends perché devo dire l'episodio con i quiz ti ricordi quando scambiano quello dove scambiano fanno il quiz in Paglio a un certo punto c'è lo scambio di appartamento sì 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 c'è Ross che fa le domande che fa le domande e quello è l'ho visto l'ho visto tante volte quel e sì che il finale è che sbagliano perché non sanno che lavoro fa Chandler giusto sì perché che lavoro fa Chandler non lo sa e prima c'era stato l'errore anche quello famosissimo del gli dicono ogni settimana arriva la guida tv a Chandler che cosa c'è scritto ed è Chandler Bong e lui dice no è Miss Chandler Bong domanda che abbiamo usato mille volte e c'è Rachel che gli dice arriva Chandler Chandler Bing e Monica gli dice no la rubiamo tutte le settimane e Chandler dice lo sapevo sai come fa Chandler sì 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 cento volte l'episodio io invece credo alla fine il paintball di community e ti tiro fuori una roba proprio ma di non dico di micchia di più che è una puntata di Sports Night la serie quella la primissima serie di Sorkin è una puntata in cui sai quelle classiche lì a costo zero in cui c'è la buffera di neve se non mi sbaglio cosa tutti restano chiusi nell'ufficio in una sola stanza giocano a poker c'è la puntata del poker di Sports Night che è una cosa ma di scrittura è una cosa pazzesca c'è proprio fatta al millimetro quella mille volte mille volte ah io ho visto The Kingdom cinque volte sempre causa ospiti non so quali sono gli ospiti però The Kingdom non è leggerissima da vedere e cinque volte secondo me è un po' una mazzata ma ospiti che si sono stai parlando di Von Trier giusto quella di Von Trier intendi no? mi confondo io? The Kingdom è una cosa di Von Trier giusto? ma più che altro la cosa degli ospiti che io me le vedo Ugo che rapisce della gente sì sì è quella ora guarderai esatto esatto va bene ce n'era una bella qualcosa di bella ah no ma io volevo chiederti anche la chiedo soprattutto a te perché forse forse da solo con loro l'avevo già fatto o comunque l'avevo già parlato una cosa che quando la vedi ti fa smettere di guardare una serie cioè tu stai vedendo succede una roba un concetto una roba e dici no vabbè ciao ciao che secondo me allora a me vabbè però ti dico non so nel senso la cosa che mi fa incazzare avevamo parlato nel correstivo quando era venuto una roba che mi fa sempre più incazzare però vado avanti perché le devo vedere è il flash beccone inizia succedeva la cosa lì tre mesi prima che è una cosa ormai costante in tutte quelle un po' di medio basso livello quello proprio mi sta sulle palle tremendamente e e poi no in realtà quello che a me respinge sempre e l'ha sempre fatto anche nei film sono le storie di malattia io non ce la faccio le storie di malattia ma tipo cioè proprio in generale che proprio sì la grande lotta contro il tumore la grande lotta quelle proprio non ce la faccio cioè mi respingono proprio sì 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 infatti ho visto di recente che è molto bello cosa sarà di Francesco Bruni che è quella roba lì infatti grande sofferenza grandi lacrime è un bel film però molto bello che è il motivo per cui poi non guarderemo nessuno guarderà al frivino rampi ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando cioè io sono quello è un film no no tra l'altro non è una serie ma sì ministri sono due sono due serate comunque quello io in questi giorni da che l'ha annunciato Sky sto leggendo solo di gente che dice perché io non potrò guardare quella serie lì no ti giuro io ho visto interessante ho visto il trailer che si apre con i primi dieci secondi di questo bambino con la magliettina che salta tutto felice che grida raggi fotonici che gioca con la spada e tu sai già come va a finire sto cristiano è una roba devastante pesante pesante ho letto qualcuno che ha detto che è più una cosa per le nuove generazioni cioè chi non ha saputo che poi io e te non l'abbiamo vissuta no no però sì 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 però comunque è una roba che a un certo punto abbiamo cominciato a sentire però insomma pesantona pesantona e poi alla fine siccome ce la spiegano tutti quando fai le scuole di cinema di tv ti la spiegano tutti come il momento di passaggio dalla vecchia alla nuova televisione ci sarà sicuramente poi un grande concentrazione sul morboso della tv che gli sta addosso sì 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 no che c'è nel senso intendiamoci la storia in sé è potentissima ci mancherebbe altro però è davvero forse la puoi fare in America nel senso ispirata alla storia di Alfredo Rampi vi raccontiamo questa storia che voi americani non conoscete per l'Italia è veramente una cosa che è forte veramente la conoscono tutti però non la conosceranno i ventenni però a un ventenne non ti va a vedere Alfredo Rampi in due puntate su Sky secondo me per cui è proprio un po' strano tutto è un po' strano tutto infatti non mi ricordo forse abbiamo parlato noi due non mi ricordo chi scriveva ma secondo voi perché la Rai non ha mai fatto una fiction in 40 anni su questo tema ci sarà un motivo per cui la Rai che fa qualsiasi cosa che fa come dice Lundini Simonetta la truccatrice della Magnani l'hai visto lo sketch di Lundini? no non l'ho visto è questa finta fiction dedicata a Simonetta la truccatrice della Magnani e tutta la storia è di questa della Fanelli che va a truccare la Magnani e la Magnani dice sempre no lascia stare le mie rughe ci ho messo una vita a farmele venire ed è tutto così con lei che arriva lì no lascia stare no no e quindi questa truccatrice che cade in depressione vabbè vabbè qua ci sono state delle risposte interessanti alla cosa che molli se la vedi Aliena dice risposta tra l'altro strana tutto sommato da una donna massimo rispetto dice io odio quando si menano in maniera poco credibile molto vero ti consiglio Kung Fu Kung Fu a questo proposito questo questo allora c'è tipo che questo qui è il calcio di Kung Fu così così a rallentatore per farti vedere bene che non lo prende è una roba imbarazzante mi ha fatto venire in mente non so io vado a flash stasera bello è il litium che la gente che corre sopra i treni in corsa però io c'ho rispetto quando si vede che c'è un po' di resistenza quando devono fare così va bene no dice a proposito di cose a caso ho fatto caso l'altro giorno guardando la prima puntata della Ferrovia Sotterranea che ormai nel senso il Prime Video mette sempre in alto a sinistra quali sono i temi caldi diciamo così i trigger warning fondamentalmente che ci sono all'interno di una puntata e la cosa bella è che mette ovviamente violenza bla 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 tutta una serie di cose tra i warning mette anche persone che fumano e ora io non vorrei fare spoiler intanto non vi dico chi è e cosa succede ma ne avremo contato della Ferrovia Sotterranea bruciano vivo un uomo e tu metti persone che fumano come cosa che ti può sconvolgere effettivamente ci sono vabbè dai 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 vabbè grande aliena avendo fatto sport da combattimento ci sono cose davvero inguardabili io voglio sapere tutto ma aliena cioè tu hai una vita tutto ah no vai però ce l'aveva detto scusami ce l'aveva detto che aveva fatto muay thai ce l'aveva detto dopo belta è vero è vero la roba che faceva i cocktail scusa aliena c'è ragione non vale più adesso adesso allora ce ne frega un cazzo cosa scrivi no no la sapevamo la sapevamo paola v dice una roba interessante che io non sopporto le serie con donne che rincorrono uomini che le ignorano sono sgradevoli il che spiega grande tema del patriarcato le 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 i film e le serie fatte con uomini o molto brutti che però siccome sono simpatici riescono a calappiare le strafighe in questo caso scusa potremmo chiamarla la regola di love di netflix perché gillian jacobs con quello lì per favore con quello lì ma infatti ma infatti c'è la grande la fantasia maschile che probabilmente scritta dai nerdoni che potevano scrivere che arrivavano a scrivere i film e le serie era quella di avere degli uomini bruttarelli o comunque che però in virtù della loro simpatia e della loro cosa attiravano donne che erano simpatiche intelligenti ma anche bellissime alla fine forse Woody Allen è il principe di questa cosa qui che è una roba ragazzi non ha nessun senso nella vita reale i belli vanno con i belli i brutti con i brutti i medi con i medi questa è la verità poi ci esistono poi esistono poche eccezioni perché esistono da escludere i casi dove sono i mezzi soldi escludiamo i casi dove sono i mezzi soldi perché evidentemente quello smonta tutto ma altrimenti i belli con i belli i medi con i medi e i brutti con i brutti questa è perché una ragazza bella magari vuole vuole l'uomo intelligente e simpatico e ci mancherebbe altro ma può sceglierlo nei molti belli che le si propongono io non ho mai visto Castelli scaldarsi così tanto se non parlando dell'Oscar a Moonlight devo dire è l'unica altra volta nella vita in cui l'ho visto così accalorato su un argomento ma io sono sereno però è una è una grande verità è una grande verità è una grande verità ah bravo si Roby te la bellona che però è mascherata da bruttina ma prendi una bruttina vera perché stai parlando ancora del blind casting in un certo senso va bene si sono quelle che credo anche ma anche il prototipo forse è un po' a Nathaway tutto sommato quella che la metti lì che sembra che poi le basta che le metti su un maglione diverso e un filo di trucco qua è improvvisamente una che si gira dobbiamo citare anche la tua serie preferita del 2020 Normal People cioè far credere che la tizia fosse brutta e manca gata al liceo è fantascienza ma lasciamo stare ah si assolutamente si assolutamente si ma c'era anche quell'altra ma anche Genie and George ne abbiamo parlato cioè col fatto di essere ancora di più Normal People col fatto di essere di razza mista tutti le volevano male se sei gnocca non gliene frega niente nessuno e sei di razza mista va bene va bene dopo come dice come dice Candos Park Castelli fra un po' ci canti Teorema di Marco Ferradini e mi piace mi piacerebbe chiudere non avessimo la possibilità di inserire musica sarebbe bello chiuderla così come sarebbe stato bello tutte queste settimane poter inserire ancora canzoni di Laura Pausini per sottolineare momenti di queste puntate ma poi ci bloccano su YouTube per cui non possiamo farlo non possiamo farlo dovremmo iniziare a scrivere canzoni originali probabilmente già non facciamo niente nella vita esatto esattamente oggi possiamo dirlo cosa abbiamo fatto oggi alle due e mezza abbiamo avuto una call con la nostra concessionaria di pubblicità che ci ha detto ma perché non mettete su una newsletter poi ve la facciamo riusciamo a farvela monetizzare abbastanza noi abbiamo fatto un po' di conti e abbiamo detto ma secondo noi potremmo arrivare potremmo arrivare ad avere questo tesoretto di persone iscritte alla newsletter abbastanza cioè voi di fatto esatto abbastanza fedeli un po' di più dai abbastanza fedeli e abbiamo chiesto ma secondo voi per monetizzare in maniera decente per non sbattersi soltanto ma avere comunque un ritorno quante dovremmo averne tipo 25 volte quelle che ci avete detto e abbiamo capito abbiamo capito che non avremo una newsletter di Serial Minds e secondo me questo è un ottimo finale non so come l'ha pensato però no l'ottimo finale è dirci quando ci vediamo giovedì ma io non ci sono e poi da settimana prossima ci organizziamo con gli ospiti facciamo comunque da lunedì giovedì da settimana prossima va bene e mi tengo le news che mi ero ottenuto perché giovedì mi servono grazie anche perché il domandone è saltato tutte le domande che avevo sono finite le domande agli ospiti del questionario di Loc quindi dovrò immaginarmi altre cose interessanti da fare va bene esatto dai buonanotte amici buonanotte 23-28 faccio tardissimo eh sì ciao ciao